Uè bella a tutti ragazzi! Prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator Xyuderone, grazie mille per il vostro supporto. Attenzione ogni 14 giorni scade, quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su Instagram, uno screen, quello che volete, io vi reposterò. Ma adesso video! Non mi ricordo da quanto gioca Fortnite lei, mi illumini? Season 1 barra 2 capitolo 1. Season 1 barra 2 capitolo 1, quindi abbiamo praticamente vinto? Eh sì. Sì dai raga hai vinto, ma che c***o gioco a fare io figa raga? È già vinta questa partita ragazzi, andiamo forza. Attenzione perché grava su di lei una certa, un certo peso adesso, signor Vale. Perché? Perché il signor Manu ha messo 500 bits per la vittoria. Ahia! Eh qua mi deve proprio dimostrare tutta la potenza season 1 barra 2 capitolo 1. Ma sto scherzando. Le migliori macchine da gaming sono i computer, mica le console. Pensate perché siamo contestati, eh? Sì. 26, 25. Bravo! C'è gente qua, eh? Arrivo. 18, bianco 1, gliene manca. Vieni. Cosa c***o pensi di fare? C***o. 48. Sono due team diversi? Eh, mi sa di sì, per forza. Guarda i soci dove sono, andiamo. Questo si è fatto... Ah, l'arco scoringione ha fatto questo, bello. Ma non ho capito, non ho capito. Non capisco perché non si sparan tra di loro. Cosa? Non esiste. C***o. Il dato 49, 50. C***o lo vado a prendere, prendi un veicolo. Vada, 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 vada. Arrivo. C***o. C***o è andato. Bene, bene. C***o pensavo di fare questo? Di prendere la scheda? C***o che pensavo di fare? Andiamo. Ma non è l'unico, ce n'era ancora uno, ce n'era, eh? Forse il suo matchmaking, livello 23, potrebbe essere. Sì, recupero. C'è gente sopra il teatro che mi dà fastidio? Arrivo. Ok, visto. Ma è scuso. Ma l'ho ucciso tu. Eh, l'ho fatta esplodere io. Ah, ok, bravo. Ragazzi, sembra che questa partita possa avere... ...una buona conclusione. Eh, sì. Non dica è sì perché poi facciamo la figura di m***a, è un casino. No, no. È molto sicuro di sé, ragazzi, il nostro vale. L'altro siamo pure in safe. Come ce la vogliamo gestire? Non lo so. Perfetto. Come vuole lei? La voglio portare a casa, ma non voglio neanche stare qua a camperare, quindi... Dov'è lei, mi scusi? Ah, lei è su con me, ok, perfetto. Sono dentro, sono dentro. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, c'è il signor c***o. Non lo vedo. Ah, perché c'è stata gente? Ok, c'è in giro gente con lo spaz. Approfitti per andare full legna, eh? Noi potremmo spostarci verso sepi, vedere un po' come la situa. Stiamo spostando? Vai, vai. Non siamo in safe, non siamo, eh, comunque. Però un'occhiata la darei ugualmente. E quindi come la ragioniamo? Cosa facciamo? E chi lo sa, saranno tutti campanati nese spuri. E non lo so, non ci in giro nessuno. Io mi sto prendendo gli ingranaggi, ma posso potenziare due armi, quindi boh. Compa del nonno non si può far salire, eh? Il nonno lo può far salire solo dagli NPC che potenziano. Senta gli spari? No, dagli ingranaggi. Ti sente? Sì. No, un cinghiano, un cinghialozzo. No, no, un cinghiozzo. 8-8, venga, venga. E' sponato come le bestie. E si va a prendere la kill. Cosa è? Prenda pure questo? Vabbè, vado a prenderla qui. Non puoi fare, mi scusi. E' lì che si va a su se stesso, lo lascio andare. Mi scusi un attimo. Vabbè, sento, io faccio così, faccio così, così, e mi faccio, mi faccio la rblù. Ti ha qualche ingranaggio per me? Sì. Oh, gente. Dove? Prenda se ingranaggi per favore, ok, niente. Where do you wanna go? Bravo. Stavo dicendo che le servono ingranaggi? Eh, sì. Prego. Così mi faccio lo spazio. Niente, ragazzi, non possiamo essere fermati, siamo troppo forti, raga. Non possiamo essere fermati. Let's go, let's go. Faccio il kit. Ma si faccia quello che le pare, io non ho nessun problema. Secondo me lo vinciamo easy. Si sparacchiano. Ok. Sono qui, credo. Sta un po' dietro, Axion. 5, 5, 5, 5, 5, LOL. Uno da me. Fittato, 65. Morto. Arrivo. Bravo. Ah, è il socio, è il socio. Anche uno che nuota va via, non so perché. Prima il socio, prima il socio. Ok, vai, vai. No, lo tengo, lo tengo, lo tengo, io vado avanti così. C'è questo? Arriva, faccio shield. Sono in due. I'm coming, I'm coming. Distrutto uno, l'altro? Bravo, Axion. Distrutto anche l'altro, easy. Dai, yeah. Eh, quando ci sono i bitti in palio non capisco più niente, andiamo. C'è un rientro, c'è un rientro! Ehm, ok. Dietro di me? Ah, quali due. Mi sparano? 51. Giù uno. Quarto. Anche l'altro, andiamo. Mi distruggono, mi distruggono, ci muoio. Se non mi aiuti, ci muoio, eh. Sono pronto? Ancora un attimo. Ok. Ancora di essere morto? Vengo subito da lei. Distrutto uno. Molto bene. Morto anche l'altro, easy. Oh no. Signore, ho tirato la mia pompa. Easy. Ho fatto nove fucking kill. What? Ah, fuck! Oh, davanti! Eccomi! Ah, brutto, sono in due. Mi ha inteso l'agguato. L'ho visto, l'ho visto, 36, 36, mi si è rotto shield? Morto! Bravo, tu! Finito? Eh, lei è un king, tu. Eh, ho abbassato la mira, non c'è più storia. Andiamo? Oh, no, no. Ci sono gli animali che ci scazzano la minchiamo. Vai, 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 queste 15, oh, m***a. Oh, quanti ce ne stanno? Vai, 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 apri, 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 apri. Poca vita, poca vita. Dai, chiudiamola, chiudiamola questa partita. Vinciamo la camera. Alla fine si è chiusa a Pantana. È vero? Questa è bella, questa è bella. Abbiamo distrutto tutto. Dove sono gli ultimi due stunnati? Là, sono. Mi sembra, eh, ho visto... Mi sembra, eh, ho visto... Delle robe strane. Sì, sì, mi soddisfa. Ma, quindi, dove sono? Mamma mia. Guarda, non è grossa la safe. Oh, vale, ciao, ma chi? Niente, i lupi ancora ci seguono. Ma non è che questi qua muoiono di safe? Sto giocando con un... Magari. Oh, uno vi... Uno... Sì, vabbè. Ma questi qua muoiono in safe, Lord. Ma non è che questi stanno a Pantano la cosa. Sento da me, mi sa, da me. Sì, lo vedo. Sì, da me. Let's go! Dai, yeah! Easy! Easy! Gangara, 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 gangara! Yoho! Grazie per la visione!